cuore juve cuore juve grande cuore e grande culo anche sì sempre con cu inizia sempre con cu cuore culo cuore culo cuore culo ma mi prendo questa questo pareggio questa impresa di questi tre gol in una manciata di minuti praticamente con tre tiri in porta me lo prendo questo punto soprattutto il grande paolo montero che non meritava non meritava di iniziare la sua carriera d'allenatore in a con questa debacle pazzesca con questo schifo con lo schifo che c'è stato per i primi 70 minuti in balia di un bologna che gioca meravigliosamente bene ma i nostri ragazzi hanno dimostrato una volta di più di essere mercenari mercenari schifosi mercenari schifosi che giocano solo quando c'è la coppetta in palio e oggi sono accesi senza palle in campo senza palle senza attributi senza coglioni in campo ripeto in balia di un meraviglioso bologna di un meraviglioso allenatore di un meraviglioso impianto di gioco e di un meraviglioso calafiori che ora dubito seriamente che venga a torino come si diceva per 30 35 milioni calafiori vale molto 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 di più e se c'era oggi qualche emissario della della premier league non solo di qualche altro campionato state tranquilli che calafiori è perso è perso questo sembra franz beckenbauer come si propone avanti propone gioco recupera palla detta passaggi e fa gol meravigliosi da incontrista ruba la palla è scavetto da attaccante è un difensore ci rendiamo conto che meraviglia verrà a torino non credo ma a sto punto dubito anche che venga tiago motta giustamente chi lo porta chi lo porta magari un pensierino ce lo fa chi cazzo vi porta a me a torino giocherei la champions col bologna e vado in questa squadra piena di macerie maledizione speriamo bene io non so ragazzi lo voglio lo voglio fortissimamente perché ripeto su quell'erroraccio abbiamo trovato il gol del 3 a 1 e sulla punizione poi li cambia tutto ovvio che cambia tutto il bologna comincia a venire il braccino al bologna noi la pareggiamo con quel meraviglioso tiro radente di dizza a proposito montero è giusto che non tocchi niente rispetto alla formazione vincente della coppa italia ti insedi ti insedi il giorno prima ovviamente non tocchi niente tocchi il meno possibile perciò io ti perdono paolo anche perché io ti adoravo da giocatore ti ho sempre adorato montero sei sempre stato un idolo per me e te lo perdono ma il prossimo che verrà dopo il beccamorto guai a non fare giocare sto ragazzo grida vendetta la panchina sistematica di questo ragazzo la panchina fatta gli fare dal beccamorto da tre mesi a questa parte sempre 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 ragazzi il diz sempre in campo con qualsiasi allenatore finisce sto campionato l'ultima giornata di sofferenza e basta da agosto prossimo il diz sempre in campo non rompetemi il cazzo e girate pure il numero 10 capito capisci chiunque tu sia nuovo allenatore spero di agomotta non so se sarà de zerbi qualcun altro spero di agomotta hai visto stasera che cos'è successo dall'entrata del turco cos'è successo la squadra di fantasmi come si è trasformata e allora il turco sempre in campo col numero 10 fino alla fine